A Pineto l'iter amministrativo iniziato quasi un anno fa per la realizzazione dei parcheggi a ridosso della Torre del Cerrano non si è ancora concluso a causa della mancanza di un nulla osta rilasciato da RFI, la società di gestione delle ferrovie dello Stato. Il percorso burocratico è passato già al vaglio preliminare di diversi enti che hanno anche fornito indicazioni migliorative degli interventi. Sì, manca un documento per finalizzare il rilascio del titolo concessorio a favore del privato, il documento che manca è l'autorizzazione definitiva da parte di RFI perché interveniamo in una zona che è posta ovviamente a confine proprio con la linea ferroviaria. Manca questo documento perché RFI nell'emore del rilascio ha ovviamente fatto un'azione di riconfinamento, ha promosso un'azione di riconfinamento e si è appurato che una piccola porzione del terreno interessato è ovviamente di proprietà ancora di RFI. E quindi si sta attivando un'interlocuzione finalizzata ovviamente a consentire l'acquisizione al comune incomodato gratuito di questa piccola porzione del terreno in questione. Secondo il progetto gli spazi per la sosta saranno 200 divisi tra l'area di proprietà privata a sud dell'ingresso del sottopassaggio e quella a nord che fa capo ad uno stabilimento balneare. Gli stalli saranno divisi per settori, auto, mezzi elettrici, moto e biciclette e dovrebbe esserci anche un chiosco per la vendita di alimenti e bevande. Tempistiche una volta completato l'interburocratico? L'interlocuzione è già in corso quindi immagino una tempistica e prevedo una tempistica abbastanza breve. Dopodiché sarà possibile rilasciare il titolo e quindi dare esecuzione ai lavori. Non voglio fare false promesse e quindi dare indicazioni temporali che poi magari non vengono rispettate perché non dipende esclusivamente dal comune di Pineto ma ragionevolmente i tempi possono anche essere brevi. Quindi l'agurio entra la prossima estate? Ci si proverà di sicuro.